Pizzicato dal legittimo proprietario in sella, la bici rubata la settimana prima. Nei guai è finito un profugo 21enne del Gambia, ospite della Caritas, che un dominicano di 55 anni ieri ha visto passare in via Fiumicelli a Treviso sulla bicicletta da 500 euro che gli era stata portata via pochi giorni prima. La polizia ha fermato il ragazzo, che ha raccontato di averla comprata per 50 euro da un uomo dell'Est. Il giovane profugo è stato denunciato per ricettazione. Soccorso alpino ed elicottero del SUEM di Pieve di Cadore è intervenuto in mattinata lungo il percorso della competizione Glory Trail vicino a Forcella da Vienne, a Seren del Grappa, dove un atleta, un 51enne di Pederoba, si è sentito male. Lo sportivo è stato recuperato con un berricello e accompagnato all'ambulanza. Da lì il trasporto in ospedale. Un 27enne e un quarantenne stranieri fermati dalle volanti lungo viale Bandiera a Treviso a bordo di un'opelastra priva di documenti, a parte un tagliando dell'assicurazione scaduto. L'episodio ieri mattina. La polizia ha poi scoperto che quello al volante, un costaricano, la patente non l'aveva mai conseguita. Denunciato, nei suoi confronti è stato emesso anche un foglio di via da Treviso. L'altro, irregolare in Italia e destinatario di un ordine di espulsione del questore di Milano, è stato invitato a procedere con l'allontanamento dal territorio nazionale. Saranno celebrati lunedì mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Paderno i funerali di Paola Grespan, la quarantenne di Ponzano, morta improvvisamente martedì scorso. Operaia in un'azienda di Vazzola, da una decina di giorni soffriva di forti mal di testa. Sul corpo è stata eseguita l'autopsia, ma gli esiti si avranno solo tra un mese. Le ipotesi vanno dall'emorragia cerebrale al tumore. Grande appassionata di basket, lascia il compagno Davide, i fratelli e i nipoti. Grazie a tutti.